Allora, adesso inizia la parte dance e iniziamo con un solista, abbiamo qui la nostra bellissima Vito, che cipolla? Dalli di Yolin Vito, che cipolla? 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 Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Quo ta nego quando non mi dico Alla giù sului How I feel Ch Scheppero Ch Scheppero Ch Scheppero Ch Scheppero Ch 행urare Ches Kokero Chane 3 Oh, You better start Oh, You better start Chane 3 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 You better start Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. 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 Sì.